Amici di Auto Occasioni ben ritrovati con una nuova puntata, io oggi mi trovo presso la concessionaria Logica Biela e con me Andrea Bettinelli, ciao Andrea. Ciao Elisa, bentornata, è un piacere riaverti qua e salutiamo anche i telespettatori che ci seguono da casa. Allora Andrea, diamo subito le coordinate sia di dove siamo, quindi la concessionaria e anche la sede assistenziale. Certo, allora per quanto riguarda la sede di vendita siamo in via della Repubblica 60 a Biella, ricordo anche l'indirizzo del centro assistenziale in via Matteotti 129 a Gaglianico. E apriamo con veramente la chicca, apriamo la puntata con la 500 elettrica che vediamo qui in tutta la sua bellezza. Non potevamo fare altrimenti, la stavamo aspettando, i telespettatori, i clienti la stavano aspettando, venite a trovarci perché è finalmente arrivata, la potete vedere in tutto il suo splendore, sicuramente una versione aggiornata, veramente molto molto bella e anche il prezzo è molto interessante. Con il contributo statale può essere vostra a partire da 15.700 euro. Ricordiamo ai nostri amici che è assolutamente possibile, nonostante il periodo, venire in concessionario, ovviamente muniti di autocertificazione perché il salone è assolutamente sanificato, ovviamente saranno pronti ad accogliervi e c'è anche il servizio online. Esatto, stiamo continuando con il servizio online, potete tranquillamente consultarci, siamo a vostra disposizione anche da casa. Invece se volete venire a visionare le vetture direttamente qua in sede potete stare tranquilli perché il salone è continuamente igienizzato e avete la possibilità di poter visionare la vostra nuova vettura in tutta sicurezza. Andiamo proprio nel vivo della puntata e continuiamo con FCA con le ibride. Esatto, continuiamo con quella che riguarda la gamma ibrida. Vi do alcuni dati. Panda può essere vostra a partire da 8.900 euro, la 500 da 9.900 euro, mentre Y da 9.500 euro. E ricordiamo ai telespettatori che abbinato a questo prezzo la nostra formula esclusiva del gruppo Intergea, la formula sempre nuova. E allora adesso andiamo a scoprire tutte le proposte firmate in Logica Biella con le chilometri zero, le aziendali e l'usato. E ci troviamo nel salone delle chilometri zero e anche qui ovviamente è presente la formula sempre nuova. Assolutamente sì, ricordiamo questa formula esclusiva del gruppo Intergea che vi permette di avere la vostra vettura senza pensieri perché vi proponiamo la possibilità di acquistare la vostra vettura con tutti i servizi di manutenzione inclusi, estensione di garanzia, gomme invernali, montaggio e smontaggio e pacchetto assicurativo. Ma entriamo nel vivo delle vetture disponibili. Iniziamo con Jeep Renegade, nella versione Night Eagle, la versione sicuramente più sportiva, può essere vostra a 18.900 euro con un costo di guida di 204 euro. Passiamo con 500X, allestimento sport, quindi cerchi maggiorati, climatizzatore automatico, veramente vettura molto accessoriata. Anche in questo caso con la formula sempre nuova può essere vostra con un costo di guida di 194 euro mensili. Passiamo adesso a tipo, chilometri zero, vasta possibilità di scelta, a partire da 13.900 euro con un costo di guida di 151 euro mensili. Ancora 500K, con la formula sempre nuova, può essere vostra con un costo di guida di 147 euro mensili. Concludiamo le proposte dei chilometri zero con Alfa Romeo Stelvio, allestimento veloce, uno sconto dal listino di oltre 20.000 euro, può essere vostro a 44.900 euro, con un costo di guida abbinato alla formula sempre nuova di 492 euro. E abbiamo raggiunto il salone dell'usato, ampio non solo nelle dimensioni ma anche nella scelta. E per chi dice di aver visto la puntata, ben due anni di garanzia pari al nuovo. Assolutamente sì Elisa, come già stiamo proponendo da diverso tempo ai nostri clienti, garanzia sull'usato pari al nuovo, due anni di garanzia. Cominciamo con Jeep Compass 1.6 Limited del 2017, 40.000 chilometri, 22.900 euro. Sempre Jeep Compass, sempre allestimento Limited, questa volta nella versione 2.000, 4x4, cambio automatico. Anche in questo caso, meno di 50.000 chilometri percorsi, la nostra richiesta 23.900 euro. Lancia Y1.2, allestimento Silver, 30.000 chilometri percorsi, la nostra richiesta 8.490 euro. Ancora Lancia Y1, questa volta allestimento Gold, il più accessoriato. Parliamo di una vettura che ha percorso meno di 45.000 chilometri, la nostra richiesta 8.900 euro. 500X, 1.3, 95 cavalli, allestimento Popstar, in questo caso la nostra richiesta 12.900 euro. Proponiamo anche sempre 500X, questa volta nell'allestimento 1.6 Lounge, vettura con pochissimi chilometri, meno di 50.000, la nostra richiesta 15.900 euro. Serie 1, allestimento Unique, 70.000 chilometri, la nostra richiesta per questa vettura 12.900 euro. Sono appena arrivati in salone, splendida Q3, 2000 S-Line, cambio automatico, vettura full optional, appena un anno di vita. Venite a scoprirla, la nostra richiesta 39.900 euro. E concludiamo con classe A, 180 allestimento Sport, venite a vederla, la nostra richiesta 15.900 euro. Concessionari a Logica BL, concessionario ufficiale come sapete FCA, concessionario ufficiale anche Citroen e poi concessionario anche ufficiale Opel, siamo proprio nel salone Opel. Esatto, ci piace concludere questa trasmissione proprio nel salone Opel, venite a trovarci e ai nostri clienti vogliamo proporre una vasta possibilità di scelta, quindi siamo a vostra completa disposizione. Chiedeteci tutte le informazioni che volete, saremo assolutamente disponibili a darvele. Ricordiamo l'indirizzo. Via della Repubblica, 60, a Biella. Da Logica Biella è tutto, io ringrazio Andrea. Io ringrazio te Elisa, saluto i nostri telespettatori. Un ringraziamento sempre a voi, alla prossima puntata.